Il tema della quinta edizione di Lombardia Ricerca è Computer Science per la sicurezza, il benessere e la crescita sostenibile. Vinto dalla professoressa Rosalind Picard per le sue ricerche sulla intelligenza artificiale applicata al benessere delle persone, in particolare dispositivi indossabili in grado di percepire non solo i segnali fisiologici ma anche le emozioni provenienti dal nostro organismo per aiutare soprattutto la comunicazione tra persone che hanno difficoltà in questo senso come quelle affette da autismo. Un risultato quindi importante dietro però il quale ci sono anni e decenni di ricerca e qui davvero voglio sottolineare l'importanza della ricerca di base perché la ricerca è trasversale, noi facciamo ricerche in un ambito e poi possono trovare applicazioni in un ambito completamente diverso, a volte in maniera del tutto casuale, pensiamo banalmente a quello che è successo con i vaccini a mRNA, piattaforme costruite per fare vaccini contro i tumori che ancora in realtà non hanno trovato piena applicazione ma che sono state sfruttate poi per fare i vaccini a mRNA che ci hanno ridato non solo la salute ma direi anche un bene altrettanto prezioso come quello della nostra libertà.